e bello a tutti ragazzi eccoci con questo nuovo video su GTA 5 online oggi sono in compagnia di Lugosimo e Cinghialotto ragazzi oggi siamo in una carrerita che ho creato per Porcomods in una gara moddata con dei pezzi nuovi del DLC moddati sempre del nuovo DLC che è uscito adesso da pochi giorni. Allora andiamo subito a careggiare come soltanto nevoso perché sai sotto Natale ci stava o no Cinghialotto che dici che dici? Eh sì eh sì la neve ci sta sempre 3 2 1 let's go guardate il mio suino moddato col vestitino moddato fiero andiamo 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 guardate che spettacolo qui come spingono tutto liscio andiamo a questo primo checkpoint e guardate qua ragazzi i nuovi pezzi del Nike Club del nuovo DLC guardate che spettacolo questo teschio una mina dovrebbe essere anzi è una mina però non esplode qui però trollano sti cosi quindi bisogna andare molto piano come non detto ne so trollato andiamo 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 impegniamo leggermente oh sto salito in testa chi è? Cinghialotto? beccate questo beccate questo e beccate questo diamo diamo che ci fregano la prima posizione questa diciamo che la parte un po' più complicata di tutta la gara ma non è neanche poi tanto complicato saliamo ci manca l'ultimo all'alè chi è questo? Frank Matano becca di questo vado io? non so se è veramente Frank Matano allora ragazzi bisogna fare un equilibrio non so se è veramente Frank Matano ma non credo proprio però visto che sta facendo la gara e Rita è un grande Frank Matano sei un grande allora andiamo andiamo piano qua nell'equilibrio perché trolla il fuoco si vede poco quel fuoco quindi bisogna io vado piano ragazzi che punto sei Lucozzi? sto arrivando sto arrivando ti preoccupa questa cosa? no non trovai qua non stai facendo che le bombe ah si che le bombe lì trovano parecchio è più facile avevo già registrato questa gara con Giuseppe Chianese ma purtroppo non la Rockstar o quel che è non mi ha registrato la gara quindi ho dovuto riregistrarla quindi scusami Giuseppe ma purtroppo non mi ha registrato la gara e ora spero che me la registri nooo nooo io sono caduto eh no alla fine nooo 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 un po' come un ganna ma dov'era l'equilibrio Cinghielo? stavo dietro di te ero arrivato da una pedana a viola a rosa sono caduto proprio tu sai come cadò sempre io le ultime cose pensavo che era Frank Matano dietro di me nooo soltanto salutiamo tutti gli altri partecipanti Fabri Speed maledetto grande maledetto qui c'è un'altra parte calma veloce 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 olè 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 preso il check guardate anche queste mine che spettacolo guardate che spettacolo tutta roba nuova questa mi sa che sono il primo a portarvi oggetti moddati nuovi su GTA sentiamo qua una velocità respawniamo bisogna andare veloce l'ho dimenticato scusate olè veloci qua veloci secondo si sa chi è veloci impennate veloci anche qua veloci impennate nooo trollato eh questa parte trova ragazzi bisogna proprio perché queste mine sono proprio strane eh dai che ce la puoi fare fingero non demordere mi sono demoralizzato no non demoralizzato allora si a corsa vi prego vai dritto vai dritto le ultime mine le ultime tre mine sono le più troll di tutte ma che c'è qua fabbri speed eh fabbri qua è una zona abbastanza tosta le ultime tre sono maledette perché sono le prendi belle centrali se non le prendi centrali se non le prendi centrali non si mutano fuori quindi dovremmo esserci oh le ora non abbiamo ancora preso il check ragazzi quindi concentrazione sulle steppale via 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 infatti qua ho creato tutta una specie di montagne russe vai via 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 ok via ora allè check preso adesso sti cose si aprono guardate qua è pericoloso ma sono passato il primo è andato il secondo è andato non è andato ci sono caduto che punto sei? ci chiaro io sto qua te luco dai vatti credo già statale la cucina ai venti qui ragazzi bisogna impennare per saltare sto buco e frenare go 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 qui non è ancora aperto quindi andiamo veloci non cade giù ok tutto bello colorato andiamo 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 frena frena ok andiamo a prenderci sto checkpoint e qua c'è un'altra bella parte ragazzi bisogna saltare centrare il buco centrato però ci sono anche gli ostacoli vedi questi coi che si alzano e si abbassano olle no troppo veloci però ce la facciamo di culo ce l'abbiamo fatta non bisogna andare troppo veloce olle ma neanche troppo lenti ragazzi neanche troppo lenti mocca cinghialotti che non c'entra nulla però vediamo vediamo il primo ce l'abbiamo c'è lucozzi dietro le calcagne ragazzi no ma non mi posso trollare qua su queste parti easy easy eh perché lucozzi mi ha messo l'ansia ragazzi quando lucozzi mi mette l'ansia è un problema è un problema vabbè lucozzi è colpa tua se mi sto trollando su questa parte te lo dico cosa va si arriva veloce veloce arriva lucozzi veloce oh ma io non ci voglio credere ci sto trovando la parte più facile ecco avessi arrivato lucozzi ce la farò beccate questo luco beccate questo beccate questo beccate questo vai vai luco vabbè lucozzi leggiate come una farfalla trollati luco trollati guardate che spettacolo sta parte con i vetri via 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 olle no no uno so beccate oppure alle via 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 olle andiamo l'ultimo andiamo facciamo anche questo veloce veloce perfetto nooo veloce 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 prego il check e ora abbiamo quest'altra bella parte bene siamo quasi alla fine ragazzi qui bisogna saltare sugli ascensori sulle sulle fermate dell'autobus chirurgici bisogna essere qua ragazzi ok olle ora bisogna fare l'equilibrio è qua negli equilibri ragazzi devo stare concentrato se no parla un po cinghielo dimmi dove sei che ti sta succedendo io sto trollato qui alle palle delle bombe qua ancora la sei no ma eri dietro di me nel cerchio è vero eric guardate qua il finale ragazzi che spettacolo molto colore in questa neve giornate grigie buie fredde un po di colore ci vuole quanto lucozzi si sta trollando non so dove meglio così no no all'ultimo guarda l'equilibrio guarda l'equilibrio abbiamo lucozzi e le calcagne non vorrei dire ma bisogna andare veloce e lucozzi mi vuole fregare a primera posizione se fai veloce te la lascio perchè il creatore della gara non deve vincere le gare però non posso neanche stare qua vent'anni cosa quello che concentrazione il problema è lì che c'è un bel troll lì davanti ragazzi piano 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 concentrazione e lì ci ho messo un bel troll qua alla fine mannaggia a me qui tocca andare veloce e distruggere le bombe che ho messo proprio alla fine guarda mannaggia a me mettiamo un po' se muore esplodi no all'esplode guardate che mega rampa di bombe finali guardate che spettacolo vediamo lucozzi dov'è lucozzi ancora lì sono tutti lì andiamo a concludere ragazzi 12 minuti di carerita all'esplode gare dita facile alla fine non è difficile ma molto intensa cinghialotto e niente ragazzi ringrazio cinghialotto e lucozzi per aver partecipato alle mie gare a questo video e noi come sempre ci becchiamo al prossimo video bella rega bella rega bella rega